Buonasera a tutti, benvenuti ad un'altra puntata dell'iniziativa Specializziamoci Insieme. Stasera io sono il professor Emilio Quaia, vi parlo da Padova e sostituisco il professor Carriero che oggi non può essere presente per motivi personali. La seduta, la sessione di oggi è interamente dedicata all'ecografia con mezzo di contrasto, un tema a me molto caro e abbiamo graditissimi ospiti il professor Andrea Veltri, professore ordinario di radiologia presso il Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino che presenterà gli speaker che sono il dottor Marco Di Serafino della Radiologia Generale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli e la dottoressa Francesca Molea, medico specializzando presso la Scuola di Specializzazione di Radio Diagnostica dell'Università di Torino. Quindi do la parola al professor Veltri, io interverrò come discussant al fine delle presentazioni. Prego Andrea. Grazie, allora ringrazio te Emilio, ringrazio il professor Carriero. Vi anticipo che su questo tema abbiamo un titolo che è appunto quello dell'indicazione all'ecografia con mezzo di contrasto. Io mi sono riservato soltanto e condivido subito una breve presentazione, se in un attimo riesco a farvela vedere, che ci porta un po' indietro ma ho visto che non ci sono state finora altre lezioni sull'ecografia con mezzo di contrasto per cui se questo è avvenuto e io non lo so qualcuno, come dire, mi interrompa. Se no vi porto indietro un po' nella storia del mezzo di contrasto in ecografia perché se questo è il tema di oggi, quindi l'aceus nel trauma minore che è un'indicazione diciamo molto specifica, buttiamoci subito indietro di dieci anni e ci troviamo a discutere dell'aceus nel fegato che era un argomento più ampio ma perché uso, diciamo, queste slide? Perché addirittura mi portano indietro di altri dieci anni, quindi vent'anni fa, quando incominciavamo a proporre le applicazioni cliniche. Questo è solo per darvi alcune nozioni su quale sono un po' la... qual è stata la storia dei mezzi di contrasto e qual è un po' una filosofia che è diventata pratica clinica ma ci ha messo effettivamente un po'. Allora, partiamo dal concetto molto generico di che cosa sono dei mezzi di contrasto e quindi che cosa diventano poi quelli ecografici, cioè qualche farmaco, qualche sostanza che consenta di aumentare sostanzialmente il segnale quando noi andiamo a interagire con il corpo umano, con le nostre metodiche. Nel caso dell'ecografia si tratta ovviamente il segnale e l'ecogenicità. Vado ovviamente un po' rapido, sono vecchissime diapositive come vedete, però erano un razionale allora, lo rimane adesso. L'ecografia è la metodica diciamo più utilizzata, per carità la radiografia del torace è ancora l'esame più usato, ma sostanzialmente facciamo moltissime ecografie. Una certa quota di queste ecografie non è del tutto diagnostica, non necessariamente per la mancanza di mezzo di contrasto, ma può essere implementabile. I mezzi di contrasto, come dicevamo, aumentando il rapporto tra segnale e rumore, potrebbero essere di aiuto a aumentare l'utilità clinica. Esiste il mezzo di contrasto ecografico, ma in generale ideale, è quello che non è tossico, è quello che trattandosi di una sommestazione venosa periferica passa i filtri anatomici, è quello che in qualche maniera sappiamo prevedere dove va e nel caso teorico di tutti i mezzi di contrasto vorremmo avere una fase vascolare e una magari intestinale o addirittura mirata al tessuto, questa è sempre la teoria, e poi trattandosi, lo sapete già, lo avete già capito, di microbolle di gas, quindi quello che consente di aumentare un mezzo di contrasto positivo per l'ecografia, avere qualcosa che si comporti sempre alla stessa maniera e che sia, come dire, nella sua entità chimica sempre omogeneo e sempre possibilmente utile per un periodo di tempo abbastanza lungo. Questo è nato, non voglio dire per caso, ma sostanzialmente all'inizio si è trattato di emulsionare del gas per sbaglio o quasi e portare questo come in prima istanza bolle non stabilizzate e poi bolle in qualche maniera stabilizzate all'interno del torrente venoso e poi circolatorio generale. Quelle non stabilizzate erano, come dice la parola, instabili, quindi avevano il problema di passare il filtro polmonare piuttosto che essere in grado o meno di uscire dal letto vascolare e comunque avevano grandezze varie e avevano una risposta acustica poco omogenea e prevedibile e quindi di conseguenza anche un effetto fugace. Vi porto davvero ancora più indietro, qui siamo quasi, poi smetto se no mi, come dire, torno all'infanzia, ma ancora quasi dieci anni prima, 1986, leggendo questo articolo abbiamo detto, ma perché no? Allora io lavoravo col dottor Grosso in angiografia e un sistema che oggi sembra obsoleto in ottica diagnostica era invece quello che ci serviva a volte addirittura a caratterizzare le lesioni epatiche focali, ma era sempre un'immagine proiettivo. Quindi l'idea di associare una cross-sectional imaging che poteva anche essere fatta con l'ATC, quindi portando i pazienti col catetere inserito in un'arteria epatica fino in quelle TC sequenziali di allora e fare gli studi dinamici, ci si era detto, ma perché non proviamo, come fanno i giapponesi, a farlo in sala angiografica direttamente. E quindi allora avevamo iniziato a iniettare qualcosa di molto disomogeneo come era una siringa di CO2 miscelata appunto raccolta da un bombolone e miscelata con fisiologiche parinate e un pochino di sangue e abbiamo creato una semiotica molto elementare, un pochino mutuata appunto da quella che avevamo letto in letteratura dove in sostanzialmente due fasi, cioè una molto precoce e una tardiva, vedevamo se era possibile caratterizzare alcune delle lesioni focali del fegato durante l'angiografia perché la stessa angiografia aveva grandi difetti e ovviamente come potete immaginare oggi nel mondo della multifasica, degli studi dinamici con più metodiche eccetera, quello che allora riuscivamo a vedere molto bene era una fase arteriosa che fino ad allora sfuggiva un po' a tutti, sicuramente sfuggiva all'ecografia e poteva caratterizzare lesioni ipervascolari in pazienti a rischio quindi l'HCC oppure dare addirittura quella semiotica della ruota di carro su una lesione che poi appunto incominciavamo solo ad allora a battezzare come FNH, come iperplasia nodulare focale oppure nel ristagnare queste bolle di gas in lesioni focali a basso flusso potevamo immaginare dalla semiotica della fase tardiva che trattassi di angioma. Questo ovviamente era il primissimo, l'albore, il pilota, poi a un certo punto sono arrivate le microbolle stabilizzate e anche qui corro per non togliere poi tempo a chi mi segue che entrerà nel merito di un'indicazione clinica vi racconto cosa rapidamente è successo cioè queste microbolle sono diventate sufficientemente piccole sotto i 4 micron per passare il filtro polmonare sono state come dire definitivamente scelte quelle che alla fine non uscissero dal letto vascolare erano più omogenee, erano un po' prevedibili nella risposta acustica e avevano un effetto più prolungato. La prima generazione però ha visto sia dal nostro punto di vista cioè quello di chi cercava di utilizzarle sia in effetti delle loro potenzialità soltanto l'idea di potenziare un segnale che questo segnale fosse quello genericamente dell'ecografia quindi dell'ecogenicità oppure che fosse quello delle metodiche Doppler quindi potenziarlo laddove eravamo abituati a fare molta fatica a vedere un segnale penso che ancora oggi tutti voi sappiate che quando si tratta di fare un'ecodopola dell'arte RNA in un paziente obeso siamo ad avere difficoltà e quindi vedendo queste piccole frontiere allora avevamo proprio cominciato così io ero uno dei vari sperimentatori di quello che al di là della sigla si chiamava allora Levovist ed era la sharing e non ancora la buyer credo a commercializzarlo qui conobbi il professor Mittiri che voi sapete essere ordinari oggi a Palermo e andammo insieme a Parigi con un altro gruppo europeo a portare i nostri casi a creare diciamo la prima casistica in cui di fatto stavamo soltanto cercando di vedere un po' meglio le stenosi delle arterie renali con il mezzo di contrasto quando si faceva un esame che già allora si faceva con il color doppler però questo anche con tante difficoltà per esempio l'eccesso di segnale perché poi c'era il cosiddetto blooming quando cercavi di fare un ecodopler con questi mezzi di contrasto a volte poi avevi come dire un segnale addirittura esagerato e quindi altrettanto poco informativo da qui c'è stato poi un passaggio successivo che sostanzialmente è stato vissuto sia nella rinuncia all'aria appiccicata a qualcosa ma a creare delle vere e proprie bolle all'interno di gusci e poi e soprattutto a utilizzare invece una proprietà che non era più soltanto l'aumento di ecogenicità ma era la selettività di questo segnale quindi vedete che in una storia antica che però più o meno poi dal punto di vista dello sviluppo non è andata molto avanti noi abbiamo dei mezzi di contrasto di prima generazione come l'evo vi ho citato un attimo fa fino al sonno che invece è oggi stabilizzato tra virgolette come mezzo di contrasto di utilizzo rutinario in Europa ma anche negli Stati Uniti dove dopo qualche avversità credo che sia anche lì oggi il mezzo di contrasto più utilizzato qual è lo standard a cui siamo oggi abituati cioè avere un mezzo di contrasto fatto di microbolle molto piccole iniettate in periferia e circolanti fino all'esaurimento durante la respirazione del loro washout chiamiamolo così dall'organismo nel frattempo però sono in grado appunto di incrementare il segnale che proviene dai vasi ma non soltanto anche di selezionare appunto questo segnale attraverso una scelta appunto di non distruggerle come c'è stato un breve periodo in cui avevamo un uso diciamo anche lì complicato del mezzo di contrasto cercando appunto di rompere le bolle di vedere questo segnale ma molto più semplicemente di utilizzare delle pressioni di insonazione più basse quindi un indice meccanico più basso di sfruttare quella che è una caratteristica che a volte più che essere tanto spiegata alla fine viene ben immaginata con un vecchissimo clip che tra un attimo vedrete animato cioè quello di mettere in risonanza il mezzo di contrasto che abbiamo iniettato con una insonazione fondamentale ma da cui riusciamo a ottenere un segnale che nelle componenti armoniche viene in qualche maniera selezionato, pulito scusate uso termini gergali ma per essere rapido nell'essere compreso per cui alla fine quello che otteniamo è un'imagine sottrattivo cioè noi riusciamo dalla nostra scansione sostanzialmente a vedere soltanto il mezzo di contrasto questo però porta a una semiotica che è quello che ci interessa che è appunto la semiotica contrastografica che ci fa vedere cose che altrimenti non saremmo in grado di vedere questo è un preludio che spero sia stato utile per velocità e può essere stato non tanto chiaro ma magari poi abbiamo qualche secondo alla fine per chi è più interessato a un discorso che invece diventa il discorso clinico allora vi butto solo in un secondo all'applicazione che non credo sia mai stato ma magari il professor Quaia mi corregge se è particolarmente ancora affezionato alla frontiere se si è cercato di studiare in maniera quantitativa l'attraversamento del mezzo di contrasto attraverso il parenchimo attraverso le lesioni ma di fatto quello che è successo poi nella nostra vita pratica che lo usiamo qui vedete insieme ad altri sistemi come il navigatore per vedere meglio bersagli durante per esempio la radiologia interventistica e quindi fare procedure guidate anche dal mezzo di contrasto questo era giusto un esempio e non volevo certo entrare in questo argomento perché l'argomento oggi è un altro e l'argomento mi è però non così familiare nell'esperienza clinica personale per cui mi sono permesso vedendo il webinar che la Sirma ha fatto con l'invito del dottor Di Serafino che io se non si offende lo definisco ancora un giovane perché porta con sé l'entusiasmo dei giovani e anche un mondo di ecografia come dire amata perché i giovani la amano poco l'ecografia amata praticata ricercata nel senso della ricerca scientifica dove nella sua attività che credo sia anche in gran parte pediatrica e quindi c'è sicuramente un atteggiamento radioprotezionistico molto più spiccato rispetto alle pratiche radiologiche negli adulti ha però competenza specifica e quindi anche pubblicato su questo argomento cioè l'utilizzo nel trauma aggiungo un'ultima parola di presentazione così poi andiamo lisci avendo sentito la presentazione invece della dottoressa Molea che portava l'esperienza del gruppo del CTO quindi traumatologico della nostra città quindi di Torino in occasione del gruppo regionale che abbiamo tenuto recentemente e seppur parlando loro di traumi maggiori quindi non dell'utilizzo immediato ma nell'utilizzo nella follow up cioè durante il ricovero correggimi Francesca se sbaglio di questi studi che spesso si ripetono per monitorare la traumatologia dell'adulto e che però a volte comportano davvero tante esposizioni con T.C. e quindi anche loro hanno fatto un'esperienza che per adesso è pilota è comparativa quindi come deve essere la ricerca cioè prima dimostriamo che funziona poi l'applichiamo l'ho voluta se non me ne vuole in parte minoritaria rispetto al dottor di Serafino a portarvi tutte le esperienze di cui ho avuto conoscenza più della mia che sarebbe stata limitativa tolgo il mio monitor di qua immediatamente e lascio a loro di condividere partendo dal dottor di Serafino la loro presentazione grazie professore grazie professore Veltri professore Quaia per l'invito ne sono onorato è sempre bello stare tra gli specializzanti anche se in maniera virtuale d'altro panto sono effettivamente relativamente giovani quindi me lo prendo preempiorendo questa definizione allora facciamo quindi condividiamo il mio schermo vediamo un po' se tutti i passaggi sono regolari penso che lo riusciate a vedere modalità presentazione quindi partiamo subito sul ruolo della CEOS nel trauma minore dicendo innanzitutto che il trauma è una delle cause più comuni di morte o invalidità permanente di una fascia di età sostanzialmente giovane quindi al di sotto dei quarant'anni ecco perché il problema in particolare radioprotezionistico è particolarmente stringente l'addome è la terza sede di lesione in ordine di frequenza nei traumi civili ed il fegato e la milza anche per estensione rappresentano gli organi più comunemente lesi una breve premessa il radiologo entra e fa parte integrante del trauma team perché la diagnosi la facciamo noi perché l'indicazione terapeutica la diamo noi perché il trattamento interventistico lo facciamo in gran parte noi quindi il radiologo ha cambiato la sua mission ed è non più distante dal problema ma dentro il problema trauma e dentro il problema trauma significa anche assumersi la responsabilità di una scelta di metodica che sia la più opportuna che sia la più giusta in quel contesto traumatico dunque è una diagnosi difficile perché l'addome è in grado di accogliere grandi quantità di sangue in assenza di segni obiettivi significativi il cosiddetto peritorismo è un segno clinico spesso tardivo gli organi retroperitoneari in particolare quelli lesi non danno manifestazioni cliniche obiettivabili e l'obiettività è fortemente influenzata dal costato dal bacino quindi da altre eventuali cause di trauma inoltre spesso si ha un paziente compromesso nella comunicazione in coma lesioni vertego midollari quindi perdita di sensibilità e di motilità oppure dopo aver assunto eventuali sostanze stupefacenti quindi non grado di comunicare e collaborare quindi prima di tutto e mi permettete questa breve introduzione bisogna conoscere la dinamica del trauma ancora prima conoscere le condizioni cliniche e patologiche concomitanti del paziente questo è importante quando scegliamo che tipo di prestazione dare e offrire dunque al paziente quindi conoscere ad esempio se il paziente ha una terapia antiaggregante in atto o anticoagulante se ha altri fattori di rischio e come dicevo prima la dinamica del trauma dove per definizione il trauma maggiore è una condizione che determina uno o più lesioni concomitanti di cui almeno uno è in grado di ledere e di causare una elevata mortalità quindi immaginiamo un'elezione del veicolo superiore a 60 km orari ribaltamenti investimenti e tutto ciò che non rientra nel trauma maggiore entra in una definizione decisamente specifica improbabile è pericolosa perché di fatto sono spesso pazienti inquadrati con codice verde in cui appunto si parla di dinamica minore possiamo ovviamente valutarla attraverso delle scale cliniche ma di questo ovviamente è un'esperienza che poi va condivisa con il clinico con l'accettista del traumatismo dunque se sappiamo che da un lato nel trauma addominale maggiore la TC gioco ruolo determinante nella definizione nell'estensione dell'evento trauma nella stadiazione del trauma e quindi nell'interessamento adesso di più organi più distretti quindi anatomici e quindi la TAC gioco in ordine di possibilità diagnostica un ruolo preponderante ovviamente parliamo di TAC con mezzo di contrasto qui vi ho mostrato una grande lacero contusione un spappolamento in realtà del lobo destroepatico con un'emorragia attiva poi sottoposto a procedure di radiologia interventistica ma anche un ruolo importante per ciò che riguarda ovviamente anche la spesa e i costi di gestione del paziente chiaramente traumatizzato le linee guida e a CR in particolare quelle americane che rappresentano un po' un'ispirazione globale di appropriatezza di impegno diagnostico riconoscono chiaramente nell'attacca con contrasto l'approccio migliore più accurato più appropriato per gestione di un paziente con trauma chiaramente quando il paziente è emodinamicamente stabile quando abbiamo un paziente emodinamicamente instabile chiaramente entriamo in un luogo in cui è la diagnostica a spostarsi in sala rossa in cui è importante andare a seguire un'ecografia fast in cui andiamo a riconoscere il liquido in particolare e soprattutto una radiografia del torace per riconoscere eventuali contusioni associata anche ad un risconoscimento di falde di pneumotorace quindi in questo caso nel paziente con trauma maggiore instabile ma il punto cruciale nodo e chiaramente attore di questa presentazione è il trauma minore che rappresenta una terra di confine una terra di mezzo per gli amanti della letteratura e in cui si confrontano due ambiti gli assolutisti in cui ad ogni trauma sarebbe opportuno indicare un'attacca con mezzo di contrasto per ottimizzando i protocolli eventualmente riducendo la dosi di somministrazione immaginiamo il ruolo della dual energy in questo contesto anche al netto di una riduzione della dosi di mezzo di contrasto somministrata al netto invece di chi ritiene più opportuno iniziare sempre da una metodica di base quale sia appunto la radiografia quale sia appunto l'ecografia in b-mode al netto del rispetto della dose radiante fornita ma il vero problema su cui concentrare la nostra attenzione è che una lesione addominale non riconosciuta è di fatto una delle cause principali delle cosiddette morte evitabili nel traumatizzato e quindi come superiamo questo limite? Qual è l'approccio migliore? Essere più absolutisti quindi ricorrere chiaramente ad un impegno TC esclusivo oppure essere puristi effettivamente ricorrere ad una metodica diciamo di base che vede dunque nella radiografia vede dunque nell'ecografia il primo modus operandi la risposta è dentro di te generalmente sbagliata ma chiaramente in questo contesto la risposta ovviamente su cui ci abbiamo è indubbiamente quella di l'ecografia con mezzo di contrasto il ruolo dell'ecografia e della CEOS in urgenze traumatiche dell'addome è sicuramente un ruolo preponderante nella letteratura recente perché è chiaro che nel paziente che abbia subito un trauma minore viene sempre utilizzata l'ecografia come metodica iniziale per i vantaggi che ben conosciamo da specialisti radiologi e se da un lato comunque tener presente che ha dei forti limitazioni dovuti all'operatore di dipendenza e quindi può essere anche inficiato da una sensibilità una specificità decisamente variabile ma immaginiamo quindi di trovarci in questo contesto in cui osserviamo già in B-mode una milza alterata nella sua struttura ingrandita ed è liquido appunto nell'addome ampiamente esteso è chiaro che questo paziente sarà di principio destinato ad un imaging TC ad una stadiazione TAC ad un riconoscimento di altre possibili fonti di lacerocontusione o di focolai emorragici attivi il problema principale deriva dalle lesioni che al B-mode possono essere appunto visualizzate e che questo rappresentano un rischio diagnostico decisamente elevato e per questo motivo in presenza di un trauma minore la CEOS trova un ampio consenso dal momento che riesce a colmare quelli che sono i limiti dell'ecografia basale grazie appunto alla come già citata somministrazione endovina di mezzo di contrasto perché? Perché se andiamo a osservare dunque le potenzialità dell'ecografia dobbiamo riconoscere i limiti questo è un paziente che giunse per un trama da caduta da scaletto in cui l'ecografia non documentava indubbiamente liquido in addome né tantomeno alterazioni strutturali relative alla milza un paziente che invece tuttavia fortunatamente ricorse ad un imaging ETC che appunto evidenziò delle aree lacerocontusive subcappusolari quindi attenzione perché l'ecografia è gravata di un'ampia variabilità e il rischio di errore elevato specialmente in contesti di urgenza dove la pressione del dell'utenza la pressione emotiva anche dell'evento traumatico possono giocare un brutto scherzo ecco con la CEOS cerchiamo di limitare quelli che possono essere la variabilità diagnostica e i limiti diagnostici della dell'ecografia nella scala di grigi e questo non lo dico io lo dice una letteratura che come detto appunto tende a essere forte in questo contesto ampiamente diffusa e ben salda tant'è che anche le linee guida internazionali dell'EFSUM approvano l'impiego della CEOS nella gestione del paziente con trauma minore o anche lì dove ad un imaging ETC di primo achitto possiamo riscontrare delle lesioni dubbie come in questo caso dove a seguito ad un trauma un paziente condotto in TC si evidenziava una struttura dubbia nel contesto della un'area dubbia nel contesto della milza e pertanto per poter darne una giusta definizione al netto appunto di avere la disponibilità di fare un'ecografia CEOS contestuale l'abbiamo definita appunto come un piccola formazione angiomatosa quindi qualcosa che decisamente cambiava l'iter diagnostico di attesa e di ricovero appunto di questo paziente cosa dobbiamo aspettarci cosa dobbiamo osservarsi innanzitutto dobbiamo essere capaci con l'ecografia in con mezzo di contrasto di riconoscere quelle che sono gli ematomi intraparenchimali quindi che sono definibili come aree focali amorfogia irregolare ramificata di non enhancement qualora invece nel suo contesto andiamo dunque ad osservare delle componenti vascularizzate potremmo anche indirizzarle verso una sospetto di lesione vascolare contenuta che è una delle principali complicanze che come vedremo sicuramente ci descriverà la collega successivamente principali complicanze di riscontro nel follow up quindi attenzione anche ai reperti di vascularizzazione nel contesto appunto di ematomi intraparenchimali inoltre e vediamo anche la grande sovrapposizione che ci ha dei reperti di imaging CEOS rispetto a quelli di TC oltre appunto alla possibilità di identificare delle aree di lacerazione che sono strutture linealiforme a banda che possono estendersi anche in profondità e quindi dal rilievo capsulare del parenchima e quindi distinguere appunto se sono superficiali oppure dunque profonde quando tendenzialmente superano i tre centimetri di profondità e questo appunto è il corrispettivo TC questi sono diversi esempi in cui l'imaging in CEOS consente di identificare e descrivere appunto aree lacerocontusive nel contesto dei parenchimi addominali quindi come sia fortemente specifica in tassenso vi rappresento un caso un paziente maschio di vent'anni caduta quindi un trauma a bassa energia in cui caduta da bicicletta in cui evidenziamo chiaramente un po' di liquido ma vi posso garantire che la milza nella scala dei grigi non documentava affatto una scomponente lacerocontusiva o strutture anomale ed è per questo quindi che ho deciso in contestualmente di fare un'ecografia con mezzo di contrasto la quale appunto evidenziava un'ampia area lacerocontusiva nel contesto del parenchima splenico è chiaro che il paziente in questo contesto va a fare una TAC va a fare una TAC perché si va a stadiare la sua malattia trauma eventuale appunto lacerocontusione associate coinvolgimento anche del torace in tal senso sarebbe escluso ovviamente da un imaging CEUS inoltre altro caso paziente maschio trent'anni un trauma della strada qui ad esempio non avevamo neanche un po' di liquido un addome che potesse essere di fatto un sospetto e le strutture del parenchimio epatico era solo livemente disomogenea quello che ha indotto chiaramente a indirizzare verso un esame ecografico con contrasto è stata appunto la forte dolenzia del paziente in questo caso localizzata ai quadranti di destra ed è per questo quindi con imaging in colori quindi con contrasto abbiamo identificato una lesione lacerativa profonda che corrispondeva esattamente a quello che poi è stato successivamente l'esame TAC diciamo che non c'è neanche una sovrapposizione tra fare un esame TAC perché come c'è stato poc'anzi osservato il mezzo di contrasto somministrato in ecografia è un mezzo di contrasto che non viene eliminato attraverso l'emontorio renale quindi non c'è di fatto un sovraccarico dello stesso quando poi andiamo a fare successivamente un imaging TAC con contrasto insomma è del tutto sicuro poterlo fare in questo senso come lo somministriamo il volume è generalmente di 4.8 millilitri si utilizzano agocannoli almeno 20 gauge e l'iniezione è ripetibile o frazionabile quindi immaginiamo lesioni ipervascolari che dobbiamo andare a documentare e questo lo possiamo fare chiaramente si prepara in pochi secondi ed è immediatamente inettabile ed una volta preparata la soluzione utilizzabile per sé ora e generalmente essendo anche traumi minori quindi pazienti coscienti e collaboranti in tal senso chiedo anche faccio sottoscrivere un consenso informato previo ovviamente aver spiegato la procedura come si prepara eseguo chiaramente in maniera precisa quelle che sono indicazioni previste dal bugiardino ma sostanzialmente si tratta di miscelare della fisiologica alla polverina che viene predisposta in questa in questa contenitore quindi muoverlo per far rompere miscelare bene la soluzione e quindi poterlo successivamente iniettare come è stato poco anzi detto non c'è necessità di avere preventivamente un imaging un laboratorio preciso a riguardo della funzionalità renale ciò che possono essere appunto tenute in considerazioni e sono eventuali ipertensioni polmonari eventuali insufficienze cardiache che potrebbero essere dei fattori di rischio relativo della somministrazione del farmaco una controindicazione chiaramente nell'ambito delle donne in gravidanza in quanto non c'è una sperimentazione di sicurezza in tassenso e ha invece è nell'allattamento mentre invece è un impiego per quello che riguarda l'impiego in pediatria ma generalmente io lo applico dopo un chiaro protocollo preciso insomma che di condivisione con la struttura nella quale lavoro perché ovviamente ne abbiamo intravediamo dei vantaggi specialmente per quello che riguardano i termini di radioprotezione innanzitutto noi non parto col mezzo di contrasto d'amblè io faccio un'ecografia e faccio un'ecografia completa in sale ecografica non faccio una fast faccio un'ecografia in cui guardo sicuramente i recessi periodoneari sicuramente guardo i parenchimi e li guardo in maniera accurata e lì dove ho dei dubbi applico anche il color doppler perché il color doppler preventivamente eseguito all'imaging CEOS mi aiuta nettamente nella definizione di quelle che possono essere ad esempio pseudonorismi post-traumatici quindi con il caratteristico tracciato di two and fro come si vince nelle immagini a sinistra oppure di vere e proprie fistole arterovenose un imaging quindi di pulsato turbolento come si vince appunto in un imaging di un trauma renale sulla destra e perché farlo prima del mezzo di contrasto perché chiaramente con le microbolle in circolo ho difficoltà ad avere un tracciato corretto ho un degli un aliasing una turbulenza di flusso che non mi consente di campionare bene il distretto in esame e quindi di poter riconoscere nella fattispecie come evidenziato poc'anzi una lesione vascolare pseudonorismatica da una fistola arterovenosa e se invece vado a eseguire il una color doppler dopo aver iniettato in mezzo di contrasto il rischio è appunto quello di rompere le bolle e di non poterne utilizzare nelle successive valutazioni emodinamiche di una lesione appunto riscontrata quindi attenzione a questo aspetto quindi in primo acchetto ecografia in B-mode ecografia color doppler nei rilievi appunto di sospetto poi somministrazione del mezzo di contrasto e mi vado chiaramente a orientare su quella che è una fase dinamica rappresentata da una fase arteriosa e precoce a dieci venti secondi venti quaranta secondi due sei minuti una fase venosa e chiaramente teniamolo a ricordare il mezzo di contrasto in ecografia non viene eliminato con l'emontorio renale quindi mancherò di una fase venosa tardiva di una fase orografica perché questo appunto è rappresento un limite è chiaramente una un punto da tenere in considerazione special modo per quelle che riguardano i traumi renali importanti e a questo punto teniamo presente che dobbiamo tenere presente la dinamica contrastografica dei singoli parenchi che andiamo dunque ad osservare generalmente io divido splitto la dose in due parti in cui inizio generalmente dal destra quindi vado a guardare i reni innanzitutto il fegato il pancreas e la seconda dose invece la conservo per l'emidistretto di sinistra quindi insomma reni sempre sinistra e dunque la milza questo perché voglio rispettare una fase di contrasto che sia la più omogenea possibile per quel parenchima al fine di individuare lesioni lacerative lesioni contusive e quindi innanzitutto il tempo renale che è quello più precoce dove avrò una opacizzazione del parenchima già nei primi venti secondi poi andare a studiarmi il fegato per quella che è la fase emodinamica epatica quindi andarmi a studiare trentacinque secondi una fase arteriosa e poi via via una fase venosa già un minuto e il tempo pancreatico si sposa bene in questo lasso di tempo perché già trenta secondi via via quarantacinquanta secondi ha una buona opacizzazione dello stesso e il tempo splenico generalmente più tardivo dove posso avere una opacizzazione omogenea del parenchima splenico e quindi poter individuare con elevata sensibilità quelle che possono essere appunto lesioni lacerocontusive di questo parenchima e quindi innanzitutto dopo aver diviso la dose vado ovviamente a concentrarmi su quella che è l'area di maggior interesse di dove già eventualmente evidenziato un'area di contusione un'area di alterazione strutturale del parenchima faccio chiaramente un flash quindi distruggo le microbolle in questo modo ripeto la fase emodinamica di flusso in cui potrò avere una nuova fase arteriosa e quindi andarmi a riconoscere eventuali spandimenti emorragici o lesioni dunque vascolari contenute ecco questo è un approccio sistematico che va comunque inteso per avere la più ampia esplorazione dell'imparenchima addominale e vi rappresento questo caso un paziente femmina di sessantanove anni con pregresso trauma e riscontro dunque di sprenomegalia paziente a cui avendo avuto recente trauma sono andato appunto a fare a compiere quindi una CEUS nella quale dunque ho osservato delle aree profonde di lacerocontusioni e quindi chiaramente poi indirizzata all'ATC all'ATC dove poi è stato per la emodinamica che si è poi complicata sottoposta a sprenectomia oppure in quest'altro caso di paziente maschio di ottantuno anni con dolore addominale un paziente peraltro non collaborante portato dalle case di cura per anziani in cui non si riferiva fondamentalmente un reale traumatismo tuttavia la disommogenità strutturale della MISA mi ha invitato a porre una diagnosi definitiva con CEUS e quindi indirizzarlo poi successivamente ad un imaging ATC ma questo ovviamente è stato importante e ben definito all'imaging con CEUS e breve parole su follow up non mi dilungherò chiaramente perché lascerò questo argomento alla prossima relatrice e soprattutto indicarvi il ruolo della CEUS ma in generale il ruolo radiologico che si è via via sempre più integrato e reso forte perché da un approccio operativo si è passati via via ad un approccio conservativo che ha visto luogo a diversa scelta metodologica che possa essere sia con CEUS che chiaramente ATC ma anche di risonanza magnetica il tutto dettato dalle condizioni del paziente dall'organo da ricercare dalla tipologia di lesione da ricercare dall'invasibilità biologica della metodica e quindi chiaramente dell'età del paziente che abbiamo dinanzi e la disponibilità ma anche l'esperienza della metodica e a proposito se l'ATAC gioca ruolo principale ciò che dobbiamo andare a osservare nel follow up sono sicuramente le complicazioni che possono essere sia complicazioni infettive o lacerative tipo bilomi o rinomi che chiaramente vengono ben visti con imaging ITC quindi in questo target di paziente non andremo ovviamente a scegliere un imaging CEUS oppure chiaramente anche psioniorismi o fistole arteriovenose che sono le più insidiose che possono essere appunto lesioni vascolari contenute e vi rappresento appunto alcuni piccoli esempi ma soprattutto vi sottolineo che anche l'IFSUB indirizza l'impiego della CEUS in quello che dunque è il follow up nel management non operativo e questo è un breve esempio di un paziente che è stato controllato la cui lacerazione si è via risolta nel tempo nel follow up io includo sempre una fase arteriosa perché devo nell'organo bersaglio escludere lesioni vascolari contenute e una fase venosa che mi identifica nell'esattezza quella che è l'estensione della componente lacerativa ogni modificazione del reperto sarà ovviamente soggetto a ulteriori imaging con TC questa senza bomba di dubbio alcuni esempi pazienti di 41 anni con trauma della strada Milza aveva un'ampia area lacerocontusiva un reperto che vi ho mostrato poc'anzi la quale poi è stato sottoposto ad un imaging di controllo ecografico prima con color doppel che già identificava un importante fistula artero venosa bene documentata anche dalla CEUS successivamente performata e questo appunto è il reperto di sovrapposizione che c'è tra la CEUS con il follow up di questo paziente una fistula artero venosa decisamente impegnativa che ha costretto ovviamente ad una splenectomia oppure in quest'altro caso un paziente di 59 anni caduta accidentale in ambito domestico nel quale la TC non documentava in prima giornata alcun tipo di emorragia attiva né tantomeno la procedura angiografica al primo giorno di follow up tuttavia uno spandimento emorragico attivo nel contesto dell'ematoma perirenale mi ha consentito appunto di integrarlo successivamente in margine TC e di indirizzarlo verso una procedura angiografica e sicuramente nel testicolo la CEUS nel controllo di un trauma testicolare rappresenta un obiettivo diagnostico fondamentale perché mi consente di stimare la vitalità del testicolo residuo questo è un trauma bitesticolare in cui al testicolo destro ci sono oltre due terzi del pari inchimentato mentre spappolamento completo del testicolo sinistro per un trauma appunto da motocicletta e quindi posso dirvi che innanzitutto dobbiamo tenere presente che la CEUS non può essere utilizzata nel monitoraggio di quelli che sono bilomi o rinomi come detto per le modalità di escrezione ma dobbiamo tenere presente nella nostra pratica quotidiana di utilizzare ciò che è nelle nostre corde quindi la nostra esperienza guiderà chiaramente la definizione del follow up della diagnosi del follow up di un trauma quindi la scelta sta sempre a capo nostro di accendere la luce anche in ecografia quindi di far usare in mezzo di contrasto perché ci consente di evidenziare le lesioni di definirle al meglio rispetto all'imaging in BVOD di utilizzare innanzitutto il color doc e successivamente di impiegare la CEUS perché ci consente di definire meglio le lesioni vascolari contenute di stare attenti che nelle aree lacerotive spesso e volentieri possono manifestarsi dei cosiddetti pseudonoduli che altro non sono code di parenchima vitale residuo e che appunto una preliminare valutazione color doppler ci consente già di definire come tali attenzione appunto questo reperto che l'imaging si confesserà essere appunto una lesione una lesione vascolare contenuta e quindi bimote doppler CEUS questo è il trinomio che dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo ad impiegarci nel trauma l'ecografia e ovviamente sospettare tutto ciò che è in crescita tutto ciò che si modifica come questa raccolta periepatica che via via nei controlli cresceva e che chiaramente è stato indirizzato poi ad un imaging successivo e quindi un biloma rifornito e quindi vi rappresento le conclusioni che l'ecografia basale è caratterizzata da una scarsissima sensibilità nell'individuazione delle lesioni paranchimali ma in presenza di un trauma minore l'accesso trova ampio consenso da momento che riesce a colmare questi limiti quindi con la somministrazione e con i vantaggini che caratterizzano tale metodica e soprattutto nei traumi splenici in considerazione della scarsa sensibilità all'ecografia di base che significa il rischio di emorragie tardive in caso di lesioni misconosciute l'accesso gioca pertanto un ruolo principe fondamentale con questo vi ringrazio vi lascio un breve QR code nel quale potete eventualmente fare capo insomma un po' di bibliografia spero che vi sia utile per i vostri studi il vostro ovviamente percorso formativo e grazie microfono Emilio penso che potresti introdurre tu il terzo speaker e poi io parlo e poi faccio la discussione va bene? sì certo ti ho visto parlare mutuo allora ho detto no dicevo che era una gran bella relazione questo è stato il mio commento quindi grazie a Marco e lasciamo parola a Francesca anche perché il tempo dell'oretta prevista è sempre corre come si dice quando ci si diverte Francesca buonasera grazie professore grazie di questa opportunità sarò piuttosto breve mi collego appunto alla presentazione appena vista spero riusciate a vedere lo schermo ok vi riporto appunto lo studio preliminare diciamo che abbiamo fatto presso la sede del CTO proprio a proposito dell'utilizzo nella CEUS come il professore mi introduceva piuttosto che appunto nella diagnosi delle lesioni dei parenchimi addominali nell'evoluzione di queste lesioni infatti diciamo che i pazienti a cui ci siamo rivolti insomma che abbiamo poi studiato sono quei pazienti che sono arrivati appunto politraumatizzati presso il nostro trauma center che stabili diciamo e hanno effettuato una TC all'ingresso una TC con mezzo di contrasto e successivamente sono stati ospedalizzati e inizialmente appunto sono stati sottoposti a piuttosto a dei controlli appunto seriati nel tempo piuttosto che a un approccio operativo controlli seriati nel tempo dettati ovviamente da esigenze cliniche chirurgiche appunto sulla base dell'andamento del paziente e che vengono generalmente fatti con una TC col mezzo di contrasto e per i vantaggi ovviamente per tutto ciò che è di positivo all'ATC con mezzo di contrasto quindi la panoramicità la completezza quindi la possibilità di studiare sia lesioni vascolari appunto che lesioni parenchimali l'elevata sensibilità l'elevata specificità con ovviamente i svantaggi e comunque i limiti dell'ATC col mezzo di contrasto quindi l'utilizzo di radiazioni immunizzanti di un mezzo di contrasto potenzialmente appunto nefrotossico e appunto siccome sono pazienti che andavano comunque incontro a dei controlli seriati nel tempo quello che ci siamo chiesti è se potesse esistere un imaging alternativo piuttosto complementare per evitare una somministrazione appunto ripetuta nel tempo sia di radiazioni immunizzanti che di mezzo di contrasto e gli ho dato e per quello appunto abbiamo pensato all'ecografia col mezzo di contrasto e ci siamo ovviamente rivolti alla letteratura cercando di capire quali fossero gli orizzonti insomma quali fossero le proposte attuali e quello che appunto è emerso e che l'utilizzo appunto dell'ecografia col mezzo di contrasto è piuttosto consolidato sia nella diciamo più che altro anche nella detezione delle lesioni parenchimali nello studio principalmente di pazienti pediatrici e un po' meno nota appunto anche se la relazione precedente ci ha già già esplicato quanto di importante è alla CEUS durante la valutazione nel follow up appunto un po' meno nota in questo tipo di diciamo in questa fase del paziente dell'ospedalizzazione del paziente perché l'ecografia col mezzo di contrasto perché sicuramente non utilizza radiazioni ionizzanti perché sicuramente seguibile a letto del paziente che nel caso di un paziente politraumatizzato rappresenta probabilmente uno dei vantaggi principali non influenza non è influenzata dalla funzionalità renale c'è il mezzo di contrasto ecografico e inoltre il mezzo di contrasto ecografico è correlato a una bassissima progettuale di reazione anafilatoide con i limiti ovviamente senza dimenticare ovviamente i limiti dell'ecografia quindi la scarsa panoramicità e l'operatore dipendenza quindi in realtà noi ci siamo rivolti appunto siamo andati proprio a valutare quelle lesioni che sono state riscontrate alla TC di baseline possiamo dire e quindi a valutare esattamente quei reperti che già noti come sono evoluti nel tempo i tempi con cui sono stati effettuati i controlli sono stati dettati principalmente come dicevo all'inizio dalle esigenze dei clinici e dei chirurghi sulla base dell'evoluzione del paziente abbiamo raccolto dati piuttosto esigui diciamo abbiamo analizzato nella fattispecie 37 pazienti tutti di età media piuttosto giovani che avevano riportato uno o più lesioni traumatiche dei parenchimi addominali e che emotivicamente stabili appunto come dicevo all'inizio avevano effettuato un ATC con mezzo di contrasto e poi sono stati ospedalizzati il follow up radiologico che è stato eseguito delle lesioni riportate è stato eseguito con l'ATC con mezzo di contrasto come convenzione fare presso il nostro istituto e parallelamente in tempi molto ravvicinati abbiamo eseguito appunto la CEUS alternativamente prima l'ATC e poi la CEUS più che altro per esigenze logistiche di reparto ma comunque la condizione importante è che questi due noti fossero eseguiti a distanza molto ravvicinata in modo tale da poter rendere comparabili le due metodiche e quello che è emerso è che nella totalità dei nostri pazienti vi era un'esatta corrispondenza tra quanto riscontrato all'ATC e quanto veniva con mezzo di contrasto e quanto veniva riscontrato poi alla CEUS e come dicevo appunto tutti i pazienti hanno fatto prima l'ATC con mezzo di contrasto all'ingresso e hanno fatto appunto i controlli seriati nel tempo con TC e con ecografia con mezzo di contrasto e sono esattamente riproducibili le lesioni riscontrate appunto all'ATC e riscontrate alla CEUS sia in termini di dimensioni sia in termini di morfologia sia in termini di evoluzione nel tempo di queste lesioni e questo è vero sia per le lesioni epatiche lesioni spleniche lesioni renali e ovviamente appunto con la possibilità di studiare quando note lesioni appunto in più organi nel medesimo esame vi riporto ancora altri esempi questa è una TC con mezzo di contrasto appunto eseguita all'ingresso con una voluminosa voluminose lesioni epatiche ha fatto la prima TC di controllo dove vi ho riportato proprio le misure della lesione stessa e esattamente la CEUS per mostrarvi esattamente come la sia la morfologia che le dimensioni che l'evoluzione della lesione erano esattamente riproducibili nell'uno e nell'altro caso vi mostro ancora un caso con un'altra lesione molto pulminosa del parenchime epatico e la prima TC di controllo e successivamente appunto a distanza molto ravvicinata del tempo l'ecografia col mezzo di contrasto ancora una volta appunto le lesioni sono esattamente riproducibili nell'uno e nell'altro caso questo è stato vero per tutti i pazienti che abbiamo realizzato ovviamente ci siamo chiesti quali potessero essere i limiti in questo caso e mi aiuta diciamo per esplicare un pochettino quelli che sono i limiti un caso che ci è capitato piuttosto recentemente di un paziente un po' diverso da quelli che vi ho mostrato perché è un paziente che anziché essere stato gestito conservativamente è andato incontro all'embolizzazione della lesione per la lesione spianica riportata e questo apre un po' anche uno spiraglio eventualmente appunto nell'utilizzo della CEUS anche per valutare il post-operatorio il follow-up di questi pazienti che vanno incontro con un trattamento operativo di questo tipo in cui semplicemente per esigenze di reparto è stata eseguita stavolta prima la CEUS in cui appunto abbiamo visto come diciamo l'evoluzione della lesione dopo l'embolizzazione e dopo la CEUS è stata eseguita la TC con mezzo di contrasto e in questo caso c'eravamo persi tra virgolette persi lo pseudonorismo splenico post-embolizzazione che magari avessimo fatto prima la TC avessimo saputo che c'era l'avremmo appunto trovato in questo caso invece tra virgolette c'è c'è sfuggito e quindi questo dal momento che si tratta di una qualcosa di nuova insurgenza può rappresentare un limite nell'utilizzo appunto della CEUS questo mi porta direttamente alle conclusioni di quanto perlomeno per ora abbiamo visto con questa limitata ovviamente casistica e che sicuramente la CEUS per noi rappresenta una metodica affidabile per il monitoraggio delle lesioni dei parenchimi addominali già note rappresentando una metodica alternativa comunque complementare la TC di un mezzo di contrasto in cui pazienti che vanno incontro appunto a controlli seriati nel tempo trattandosi molto spesso di pazienti giovani e quindi evitando quest'ultimi ulteriore esposizione a radiazioni ionizzanti e comunque in pazienti piuttosto compromessi ulteriore esposizione a mezzo di contrasto iodato ma comunque nella complessità di un paziente politraumatizzato una successiva rivalutazione TC con mezzo di contrasto rimane comunque indispensabile per la valutazione di eventuali reperti extra parenchimali o reperti di nuova insorgenza che potrebbero altrimenti rimanere misconosciuti alla sola valutazione alla sola valutazione CEUS questo è quanto emerso diciamo dalla nostra piuttosto limitata casistica e vi ringrazio con questo bene ringraziamo allora tutti tutti gli speaker hanno fatto veramente una disamina molto ampia dell'argomento un argomento che io ricordo essere stato uno degli ultimi settori di studio nelle applicazioni potenziali dell'ecocontrasto che inizialmente come diceva il professor Veltri all'inizio si iniziò studiando le applicazioni nel livello delle lesioni focali epatiche poi le applicazioni vascolari appunto ricordo benissimo lo studio a cui facevi riferimento sulle applicazioni dell'Evovist nelle stenosi delle arterie renali e poi si passò agli studi appunto in ambito renale sempre nelle lesioni focali e poi successivamente si arrivò a proporre l'utilizzo di queste sostanze nell'utilizzo nello studio dei traumi fondamentalmente quindi mi sembra di poter concludere dicendo che sostanzialmente quello che viene attualmente accettato anche in base alle linee guida a cui ha fatto riferimento ampiamente il dottor di Serafino è l'utilizzo della CEUS nel trauma minore ecco allora io volevo chiedere al dottor di Serafino che ha fatto veramente una bellissima relazione mi è piaciuta veramente molto una domanda quando noi decidiamo di fare la CEUS è una decisione nostra quindi non è una decisione del clinico cioè il clinico molto probabilmente in un regime di pronto soccorso ci chiede di fare un'ecografia in un paziente per escludere lesioni addominali soprattutto in particolare versamento addominale perché sappiamo che l'ecografia è la tecnica più accurata nell'identificazione del versamento libero in ambito addominale e questa è la ragione per cui noi facciamo la FAST ed è questa la ragione per cui il clinico ci chiede l'ecografia dell'addome quindi siamo noi che in questi pazienti decidiamo di fare il contrasto quindi pazienti che arrivano in pronto soccorso con trauma minore stabili che sostanzialmente dobbiamo valutare con l'ecografia e noi decidiamo di fare l'ecografia con contrasto la mia domanda è molto semplice questo viene fatto l'ecografia con mezzo di contrasto viene fatta a tappeto in tutti i pazienti o ci sono delle indicazioni specifiche per esempio abbiamo visto dei casi molto interessanti in cui questi pazienti per esempio a livello della milza avevano una disomogeneità ecostrutturale dell'organo probabilmente questa potrebbe essere un'indicazione per fare questo tipo di esame oppure dobbiamo farla anche nei pazienti stabili con una milza perfettamente normale un fegato perfettamente normale cioè l'indicazione qual è esattamente? Sì grazie per questa domanda allora indubbiamente nei casi che vi ho mostrato c'era un fattore di sospetto che vuoi che sia liquido o una leggera disomogeneità del parenchima splenico nella fattispecie però vi ho anche mostrato un altro caso in cui il paziente con un trama davvero banale perché era caduto dallo scaletto aveva un forte dolore nel quadrante addominale di destra senza aver riscontro radiograficamente di eventuali fratture io in quel contesto nonostante non vedessi granché al bimode nel liquido e nelle alterazioni strutturali del parenchima epatico ho deciso di fare la CEUS e appunto in quel contesto identificai delle ampie lacerazioni epatiche ora questo perché mi è stato importante perché mi ha aperto una finestra di pensiero nella quale sono arrivato non abbiamo protocolli interni in tal senso quindi sta molto all'esperienza alla volontà dell'operatore sono arrivato che quando c'è il mio turno di ecografia di pronto soccorso io l'applico a tappeto e devo dire la verità mi dà bei riscontri non reputo né perdere tempo perché la faccio in pochi minuti insomma sono pazienti che hanno già un accesso venoso tuttavia quindi non mi reputo di tardare un interdiagnostico ma di dare un'opportunità a quel paziente di una diagnosi soprattutto perché purtroppo reputo estremamente pericolosi i codici minori perché sono quelli che puoi sottovalutare in un contesto complicato come il pronto soccorso in un contesto complicato e iperaffollato sono i tuoi pazienti che puoi sottovalutare voglio andarmene a casa sono sicuro di aver dato il meglio e so che il meglio è farlo col contrasto quindi al momento il mio approccio è così ok allora volevo farti a questo punto un'ulteriore domanda acquisito questo ti senti tranquillo in questi pazienti quando hai fatto la CEUS cioè questi pazienti che arrivano magari stabili con un trauma minore e che hanno un fegato e una milza normale e l'ecografia hanno una CEUS normale perché sappiamo che la CEUS ha comunque dei limiti le diceva proprio la dottoressa Molea poco fa anche nel follow up cioè noi non vediamo le lesioni vascolari non vediamo le lesioni extra parenchimali che a volte cioè spesso avvengono in questi traumi anche minori quindi ti senti tranquillo in questi pazienti oppure senti la necessità di fare qualcos'altro no allora io generalmente ho un approccio molto sistematico nel senso che non faccio direttamente la CEUS io faccio innanzitutto un doppler un doppler in un'eventuale area di lacerazione che può essere quella di un follow up mi aiuta tantissimo nel riconoscere un'eventuale struttura vascolare contenuta veramente mi aiuta a identificare un punto di vulnerabilità di quel paziente mi sento tranquillo altrimenti non la farei farei direttamente la TAC ho una buona confidenza nei pazienti che hanno una buona esplorabilità e chiaramente se ho un paziente che purtroppo per questioni di morfotipo o di abbondante meteorismo mettiamocelo in mezzo questo meteorismo ogni tanto non mi garantisce una completa esplorabilità la CEUS non gliela faccio proprio se ho dei dubbi diagnostici me lo porto in TAC è chiaro che io ho un target di paziente nel quale sono sicuro quando l'ho esplorato tutto quando sono sicuro di aver visto anche il retroperitoneo io non faccio una FAST la FAST la lascio fare al clinico quando visita il paziente che gli giunge io faccio noi dobbiamo come specialisti radiologi fare un'ecografia completa specialistica nel quale paradossalmente ci andiamo a guardare i parenchimi il liquido si liquido no ma non solo il retroperitoneo quindi attenzione anche al spazio dell'Opsoas specialmente per i pazienti che cadono di schiena perché rappresentano dei target importanti di riconoscimento di una fonte di DRAM e poi se ho una garanzia di una buona esplorabilità io faccio la CEUS e sto tranquillo al momento però mi sento l'uso estensivo della CEUS nel DRAM minore lo applichi si lo applico ecco volevo poi fare una domanda invece alla dottoressa Molea è stata anche lei molto brava ha fatto una gran bella relazione quindi non ritiene lei ha mostrato la sua casistica l'uso nel follow up nel paziente pediatrico in letteratura è riconosciuto in questi pazienti nel paziente traumatizzato con lesione parenchimale in un paziente pediatrico l'uso della CEUS è riconosciuto nel follow up si è assolutamente riconosciuto e purtroppo nella nostra casistica non abbiamo pazienti pediatrici siamo pazienti giovani ma non pazienti pediatrici quindi su questo abbiamo scarsa esperienza però appunto ci siamo un po' rifatti alla letteratura e comunque è un orizzonte anche questo da esplorare perché invece abbiamo visto che è piuttosto estensivo l'utilizzo proprio della CEUS nel paziente pediatrico proprio per le caratteristiche del paziente stesso quindi in linea di massima è probabilmente ancora ancora più ampio l'orizzonte nel paziente pediatrico piuttosto che nel paziente giovane o adulto e al momento le ripeto purtroppo non ho una casistica tale però sicuramente nel nostro studio abbiamo proprio in letteratura abbiamo proprio visto che la gran parte degli studi si rivolge proprio a quella fetta di popolazione sicuramente va indagata ancora di più esplorata ancora di più volevo sapere poi una cosa dal professor Veltri volevo coinvolgere anche il professor Veltri che ha fatto una bellissima introduzione a proprio questa tecnica che ci accomuna nel nostro interesse scientifico è sicuramente interessante ecco se il professor Veltri potenzialmente vede un uso estensivo di questa tecnica cosa ne pensi cioè secondo te è una tecnica ci credi esattamente come ci crede il dottor di Serafino supporti questa posizione secondo te oppure io prima quando si diventa un po' anzianotti si diventa molto predicatori allora la prima predica è amate l'ecografia perché l'ecografia è un potenziale in ambito radiologico non in ambito fast in ambito faccio anche l'ecografia perché sono endocrinologo gastroenterologo e quant'altro ecografia è una diagnostica per immagini che può dare tantissime informazioni e se l'amate fate quello che dice Marco cioè io cerco di utilizzarla a tutto tondo allora io non credo che nessun radiologo pensi di fare l'ATC ma il mezzo di contrasto no non esiste nella nostra cultura e però esiste nella cultura dell'ecografia questo è legato sicuramente storicamente all'idea che l'ecografia è quell'esame così rapido e così di primo livello che poi è proprio radiologo ha delle potenzialità aggiuntive e questo se volete è più accettabile nell'elezione e non tanto nel trauma perché nell'elezione effettivamente se io fuori tanti pazienti che devono fare esami più o meno rutinari li dover incannulare il paziente al di là di poter creare delle filiere molto efficienti cioè infermieri che ti danno una mano eccetera però di fatto sicuramente diciamola per quel che ti duplica il tempo di un'esecuzione di un'ecografia rutinaria invece come ha detto Marco il paziente traumatizzato è un paziente a cui si deve dedicare il tempo che si deve dedicare e che arriva già incannulato quindi il problema può essere di uno sharing di cultura dal nostro punto di vista tra formazione e esperienza degli operatori radiologi e poi evidentemente anche quello del comunicare le potenzialità a chi prescrive quindi come è stato detto ci chiedono un'ecografia e sicuramente nell'elezione c'è anche un altro problema perché la prescrizione del mezzo di contrasto va fatta in maniera qualcosina costa quindi va fatta in maniera burocraticamente anche corretta in pronto soccorso questo problema esiste molto meno cioè l'importante è avere la prescrizione visti rarissimi effetti collaterali eccetera è bene che ci sia sul consenso io dico una verità che non ho mai detto a nessuno nel senso non lo sto dicendo neanche adesso io non faccio firmare consenso in formato scritto e spiego quella rarità di eventuale effetto collaterale poi ancora molto discutibile come sapete cioè nelle cardiopatie avanzate in cui forse queste pochi ml di mezzo di contrasto sono stati associati soltanto raramente a qualche collettualità grave quindi detto ciò se fossi più giovane e lavorassi tanto in pronto soccorso credo che come Marco di Serafine comincerei a farmi la scorta di Sono View per dire non è una pubblicità è il mezzo che abbiamo adesso a disposizione e cercherei di fare squadra con i colleghi dal mio versante e con i prescrittori dall'altro per dire sfruttiamo a fondo anche questa responsabilità attenzione sempre senza mai sopravvalutarla e senza mai cioè noi siamo radiologi non siamo né ecografisti né tacchisti né risonanzisti io credo sia condivisibile adesso Emilia dimmi tu se questo insegnamento lo possiamo lasciare a questi ragazzi che adesso stanno facendo il loro percorso perché devo dire che è un po' meno amata di un tempo e poi si ritrovano magari proprio nelle prime attività cliniche a usarla molto e a usarla senza averne grande competenza insomma beh io non posso che supportare questa tua posizione l'ecografia dobbiamo riprenderla noi radiologi i clinici ormai la stanno usando in modo estensivo e noi radiologi facendo leva sulle nuove generazioni di radiologi dobbiamo riprendere questa diagnostica perché è fondamentale partendo probabilmente anche dal paziente traumatizzato perché è lì che si vede poi di fatto la nostra abilità identificativa e la nostra padronanza della tecnica oltre che nell'aspetto così non emergenziale della tecnica è proprio durante l'emergenza che si vede la nostra abilità di operatori comunque credo che il nostro tempo sia terminato io ringrazio veramente i tre speaker in particolare il professor Veltri e Marco di Serafino e dottoressa Molea per le bellissime relazioni che ci hanno presentato e vi do appuntamento al prossimo appuntamento dell'iniziativa specializziamoci insieme buona serata a tutti grazie grazie di cuore grazie buona serata onorato dell'invito grazie ciao